ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale youtube come potete notare quest'oggi parliamo per l'ennesima volta di spia maestosa ancora una grandissima vincita da questo meraviglioso software il primissimo software che ho presentato in ordine di tempo ancora oggi continuo a pagare vincite incredibili estrazione di martedì 12 ottobre vi faccio vedere quello che ha combinato e vi faccio vedere cosa significa quando dico sfruttare le convergenze e sfruttare le migliori previsioni sia tra i vari software e sia nel software stesso cosa portava spia maestosa in data 28 settembre dalla doppia spia 90 sia napoli che venezia portava due previsioni una era questa 73 cagliari torino quindi bisogna imparare anche a leggere le previsioni ed avere l'occhio attento 73 cagliari torino ha pagato proprio non a caso quest'ambo il 73 55 sulla ruota di torino al sesto colpo dopo aver vinto il 73 a torino al primo colpo oltre ovviamente a vari ambi in terzina quindi si è vinto 73 55 attenzione dalla spia 90 venezia guardate cosa dava 53 napoli torino intanto torino era la volta che convergeva quindi la vincita molto probabilmente sarebbe arrivata su torino e su torino è arrivata perché la ruota che come vedete andava a convergere cagliari torino napoli torino vuol dire che torino è la ruota che converge in entrambe le previsioni e quindi è quella ruota sulla quale può sortire la vincita 73 55 torino 53 55 torino ovviamente ambo in terzina è ambata cosa notate che si è abbinato proprio il 55 perché quindi torino era la ruota diventava ruota unica quindi giocavamo diciamo tra queste due previsioni giocavamo torino ruota unica ma andavamo a giocare potevamo puntare l'unico abbinamento che era quello con 55 perché l'abbinamento 55 convergeva sia in questa previsione sia in questa previsione addirittura facendo una cosa del genere andavamo a beccare il terno a torino 73 55 53 questo significa sfruttare al meglio i software non certo andare a giocare tutte le previsioni ma questo significa giocare in maniera intelligente andare a verificare le convergenze numeriche perché qui portava torino il 53 e il 73 con l'abbinamento 55 in entrambe le previsioni quindi era probabile che andava a cadere proprio questo 55 come abbinamento addirittura nello stesso colpo queste sono le potenzialità che erano amici dei miei programmi queste sono le potenzialità nello stesso colpo cade il doppio ambosecco con l'abbinamento 55 e uniti dava il terno 53 55 73 55 non perdete spia maestosa quanti video sto facendo quante indicazioni di gioco vi sto dando vi sto facendo vedere come andare a vincere attenzione a non perderlo è un software meraviglioso da previsioni di una affidabilità incredibile non ci sono parole guardate cosa ha combinato con queste due condizioni questa con il 73 e questa con il 53 ha dato la doppia vincita con il 55 convergeva a Torino si poteva unire ed era terno giocando praticamente un'unica terzina perché potremmo giocare 53 73 55 queste sono le grandi potenzialità di mi software alla cui base c'è uno studio enorme dove ci sono le migliori spie in assoluto per andare a vincere spia maestosa continua costantemente a pagare di continuo ambi e termi secchi estrazione del 12 ottobre doppio ambo vinto a Torino 53 55 73 55 ma voglio andarvi a segnalare una vincita che mi era sfuggita di un software di grande investimento che è Quaterna Forza 20 Quaterna Forza 20 va a vincere un terno in quartina sulla ruota nazionale nell'estrazione vado a controllare al settimo colpo al settimo colpo la previsione è elaborata nel 18 settembre quindi questa va ad uscire in data 5 ottobre in data 5 ottobre e termine in quartina 65 32 62 sulla ruota nazionale un'altra bellissima vincita questo è un software di grande investimento che ci consente di puntare per le sorti superiori tenete conto che gioca solo tutta nazionale quindi giocata molto ristretta con solo due quartine ogni volta che esce la spia 20 su qualsiasi ruota vi da questa previsione due quartine nazionale tutte bellissima vincita il 5 ottobre con il termine in quartina sulla nazionale quindi vedete quante vincite arrivano dei miei software quante vincite mi raccomando a spia mestosa lo dovete avere e tutti lo dovete avere tutti questo non è un software da lasciare così questo software da avere e da sfruttare vedete come si sfruttano poi le condizioni come si va a sfruttare la potenzialità di un programma e va a realizzare poi queste vincite ovviamente se ci sono altri software che vi piacciono che ce ne sono tanti altri vali potete acquisirli c'è l'intero pacchetto di tutti i miei 20 software disponibile al momento in grande promozione quindi contattatevi in privato per qualsiasi informazione o via mail o via whatsapp numero 348 7547 715 per attivare o spia mestosa o più di un software serve un codice di attivazione quindi voi vi inviate il codice di registrazione e io vi invio il codice di attivazione una volta attivato il programma è sempre vostro è sempre valido questi sono software senza scadenza sono software che funzionano per sempre non c'è bisogno di aggiornamenti non c'è bisogno di nulla questi funzionano sempre spia mestosa ha almeno 5 anni più o meno dovrebbe avere circa 5 anni per adesso saluto a tutti mister sbancolotto grazie a tutti grazie a tutti